Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono il Vapor Farmer, il Vapor Contadino torna ogni tanto qua sul canale con dei nuovi video di A-Day oggi il video tratta l'argomento dell'evento globale, cioè l'evento globale degli ordini del furgone voglio andare a parlarne con voi perché questo compleanno di A-Day vi lascio comunque tutta la playlist dei vecchi video qua in alto nelle schede cliccabili sta interessando molto alla community e se anche tu sei interessato fammelo sapere ti ricordo che attualmente sul canale sto portando per lo più StumbleGuys quindi nel caso tu volessi vedere più video di A-Day fammelo sapere attraverso un gran like e condividi questo video con i tuoi amici ti invito comunque nel dubbio a condividere questo video e a passare qua sotto nel mio profilo Instagram e TikTok che risultano essere molto molto utili per seguirmi oltre alle live inoltre se ti piace proprio tanto il mio canale puoi anche abbonarti che secondo me è sempre la scelta migliore ecco all'interno di A-Day sono entrato stamattina per le solite cosette giornaliere uno va a riscuotere le ruote, fa queste cose qua mi sono trovato questa schermata qua che ci dice il sindaco ama misurare i campi migliori della zona fa il pieno di prodotti naturali nell'evento globale degli ordini del furgone noi aiuteremo i contadini della vita reale a creare terreni più fertili in grado di generare raccolti più sani schiacciamo il tasto divertiamoci e direttamente ci comparirà questo messaggio delle notizie che oltre a tutti i messaggi vecchi ci dà anche la fiera del decimo compleanno di A-Day ci spiega un po' tutto quello che sarà i dieci oggetti, tutto il calendario del compleanno quindi all'interno di questo video andremo a vedere tutta la fiera del decimo compleanno perché come sapete dal 21 maggio vi ho fatto il video appena è uscito il tutto quindi siamo stati sempre sul pezzo e è stato droppato il primo diamante il primo diamante in realtà corrisponde a 50 gemme quindi una tanta tanta roba e il secondo oggetto viene droppato dal 23 al 28 maggio il sindaco ama misurare i campi migliori della zona e quindi importante bisogna andare poi nel menu in arrivo all'interno del gioco per capirne meglio il terzo oggetto sarà rivelato il 30 maggio successivamente primo giugno qui 5,6,7,8,9,10 oggetti sono settimanali in teoria comunque dovete restare abbastanza sul pezzo perché se vi perdete qualcosa ragazzi è irrecuperabile sono delle ricompense esclusive vi ripeto giriamo la ruotellina perché magari ci capita qualcosa di interessante vabbè 5 di carboncino in realtà non è che fanno così malaccio anzi li prendiamo e ce la teniamo molto molto stretta all'interno del silos facciamo il nostro solito pieno andiamo poi a reinvestire tutte le nostre fragole coltivate all'interno dei nostri campi e con le fragole in eccesso possiamo fare un po' di compravendita dato che ne abbiamo effettivamente molte secondo me andare a svenderle un po' all'interno del giornale non è proprio sempre una cosa totalmente sbagliata stiamo per tornare anche vi faccio notare questa cosa lo vedete qua in alta destra dopo tanto tempo ha 100.000 monete un traguardo che in realtà per me non è così importante ma reputo comunque utile da ottenere vedete il cavallo come corre in realtà non abbiamo fatto un gran risultato all'interno di questo derby un settimo posto che ci permette di mantenere sempre la nostra lega non saliamo e non scendiamo di nessun tipo siamo sempre rimasti nella seconda lega che è la lega appunto novizi vi ricordo comunque vi invito a partecipare al nostro clan che si chiama i maiali del VAP se volete entrare livello 50 quindi daie 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 con le entrate vi faccio vedere un po' nella sezione in arrivo avete l'opportunità di sapere come funziona questo nastro che secondo me può essere interessante e vi faccio vedere un attimino perché se voi andate qua nella fiera del decimo compleanno ci dice dal 23 quindi dal giorno in cui sto registrando questo video fino al 28 c'è il metro a nastro in contadini uniti un evento globale degli ordini del fulgono ci concentreremo su prodotti sani e nutrienti quindi come fate sapere basta che andate qua nella sezione eventi c'è la sezione degli eventi globali che ci dice contadini uniti ciao aiutiamo insieme dei veri contadini a creare terreni fertili in grado di produrre cibo più sano completa più ordini del fulgone che puoi prima dello scadere del tempo e raggiungi l'obiettivo globale della community per permetterci di fare una donazione ai contadini nella vita reale quindi questo è un progetto in realtà molto ambizioso da parte di supercell che mischia quello che è un gioco effettivamente mobile di realtà separato da quella che è la vita reale e lo unisce con essa attraverso tale evento quello che ci dice è di raggiungere tali obiettivi personali per ottenere delle ricompense loud delle ricompense sostanziose il tuo risultato va a sommarsi anche all'obiettivo globale della community raggiungere insieme ad altri contadini in tutto il mondo quello che dobbiamo fare semplicemente sono gli ordini del fulgone niente di più niente di meno rispetto a quello che uno fa normalmente ad esempio uno vuole la torta di zucca ti trovi una torta di zucca la prendi fai la vendita all'interno del tuo giornale perché hai bisogno di fare la vendita all'interno del tuo giornale e in teoria completi quella che è una prima missione e permette poi a tutta la community globale di avanzare nel progresso approfitto di tutto per farvi vedere che siamo tornati finalmente alle tanto amate 100.000 monete feci un video molto tempo fa non so chi c'era ai tempi comunque nel dubbio ve lo lascio sempre qua nelle schede cliccabili nel quale raggiungevo per la mia prima volta le 100.000 monete ed era per me un traguardo molto importante andando avanti nel tempo mi sono poi reso conto di quanto effettivamente non è così complicato andare a farmare livelli di esperienza se volete dei tutorial li trovate sempre qua in alto nelle schede cliccabili questo evento ragazzi del decimo del decimo compleanno risulta essere tanta tanta roba vi dico fate attenzione perché il decimo evento il decimo compleanno è un compleanno che dovrà arrivare poi anche sugli altri giochi quelli magari un po' più successivi però è un gioco ed è un evento importante per un gioco Supercell ci saranno quindi grandi ricompense e il mio consiglio è quello di evitare di perderle fate il possibile e soprattutto aiutate i vostri amici che magari non ne sanno tanto condividendoli questo video se a tutti gli amici condividete questo video fidatevi che anche loro sapranno di questa cosa per saperne meglio delle date ragazzi vi basta schiacciare nella scheda in alto a sinistra nella scheda in arrivo fiera del decimo compleanno e c'è scritto proprio tutto c'è scritto tutte le date potete restare aggiornati sintonizzati al top del top non perdetevi nessun appuntamento fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi siete persi quello passato perché io in realtà ho fatto un video proprio in tempo affinché tutti possiate raggiungere tale evento questo è proprio un video sul compleanno e quindi tanta tanta roba per noi faremo poi comunque una serie poi il 21 giugno insomma ce ne saranno delle belle da vedere voi restate sintonizzati sul canale come al solito sempre sempre sul grandissimo pezzo vado un attimo a fare un salto nella città per capire un attimo come siamo messi perché avevo messo delle robe in vendita eventualmente del delle personcine che magari avevano bisogno di cose ad esempio lei li consegniamo questa roba qua riscuotiamo un attimo al volo la scatola misteriosa all'interno del mare che come al solito vi dico è gratis perché non riscuoterla le cose gratis vanno sempre bene il video termina qua spero che tu ti sia divertito e spero che il video ti sia piaciuto come al solito ti ricordo iscriviti al canale attiva la campanella se non è ancora fatto ti ricordo allo stesso tempo gli appuntamenti perché domani alle 14 ci becchiamo sempre qua sul canale con un nuovo video ed eventualmente oggi pomeriggio in live seguimi comunque su instagram nel dubbio per rimanere aggiornato sulle date al pelo su eventuali eventi off live e anche su tiktok perché lì i grandi contenuti ci sono ciao bellon iscriviti al canale